Oggi, mercoledì 6 agosto, Angelo ci fa l'imitazione di un PR di Napoli. E' un biglietto ommaggio! Dopo mezzo anno voglio, sono cazze vostre, perché dopo non hanno un biglietto ommaggio per 35 euro. Io lo posso provare, non c'è problema. Se io stasera, non c'era il problema, sono cazze vostre se non lo voglio, io per esempio, stasera, non c'era proprio Peter Pan, ma non perché... E' mi giovanne a me! Non compro, non compro, non compro, non compro, non compro! Aspetta quand'imando la pubblica, non c'è stata!